Il microfono funziona almeno. Grazie. Grazie. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il verbo di Dio si è fatto uomo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Invonti in noi la tua grazia, o Signore. Per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'ingarnazione di Cristo, tuo figlio. Per la sua passione morte concede a noi di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi preghiamo i misteri della gioia. Oggi è anche la festa liturgica di un grande pastore e dottore della Chiesa, Sant'Agostino di Ippona. Preghiamo con lui. Signore mio Dio, unica mia speranza, fa che stanco non smetta di cercarti, ma cerchi il tuo volto sempre con ardore. Dammi la forza di cercare, te, che ti sei fatto incontrare e mi hai dato la speranza di sempre incontrarti. Davanti a te sta la mia forza e la mia debolezza. Conserva quella, guarisci questa. Davanti a te sta la mia scienza e la mia ignoranza. Dove mi hai aperto, accoglimi nel mio entrare. Dove mi hai chiuso, aprimi quanto busso. Fa che mi ricordi di te, che intenta te, che ami te. Grazie, Signore. Noi ti adoriamo e crediamo in te. Nel primo mistero della gioia, l'annuncio dell'Angelo a Maria. Eccomi la sua risposta. Sono la serva del Signore. Vergine Santa, aiutaci ad accogliere la parola di Dio con fede e disponibilità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia, Maria visita la Cugina Elisabetta. Vergine Benedetta, ottienici di portare Cristo ai fratelli, con la testimonianza della nostra fede e della nostra carità. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia, Gesù nasce dalla Vergine Maria. Vergine Purissima, ottienici un cuore puro, capace di riconoscere ed accogliere Gesù, specialmente nei più poveri e bisognosi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia, Gesù è presentato da Maria e Giuseppe al Tempio. Come Maria, deponiamo nelle mani di Dio la nostra vita, perché diventi offerta pura e santa per la sua gloria e per la nostra salvezza. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le amie, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia, Gesù è ritrovato nel Tempio. Mamma nostra celeste, aiutaci sempre a cercare Gesù e a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le animi, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Preghiamo per il Santo Padre, Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con Papa Francesco preghiamo San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O Beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Salve, o Regina. Madre, misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuri figli di Eva. A te sospiriamo, gemementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Forso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o via, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi, Santa Vergine delle Vergini prega per noi, Madre di Cristo prega per noi, Madre della Chiesa prega per noi, Madre della misericordia prega per noi, Madre della divina grazia prega per noi, Madre della speranza prega per noi, Madre purissima prega per noi, Madre castissima prega per noi, Madre semprevergine prega per noi, Madre immaculata prega per noi, Madre degna d'amore prega per noi, Madre ammirabile prega per noi, Madre del buon consiglio prega per noi, Madre del creatore prega per noi, Madre del salvatore prega per noi, Madre di misericordia prega per noi, Vergine prudentissima prega per noi, Vergine degna di onore prega per noi, Vergine degna di lode prega per noi, Vergine potente prega per noi, Vergine clemente prega per noi, Vergine fedele prega per noi, Specchio della santità divina prega per noi, Sede della sapienza prega per noi, Causa della nostra letizia prega per noi, Prempio dello Spirito Santo prega per noi, Tabernacolo dell'eterna gloria prega per noi, Dimora tutta consacrata a Dio prega per noi, Rosa mistica prega per noi, Rosa mistica prega per noi, Torre di Davide prega per noi, Torre d'Avorio prega per noi, Casa d'oro prega per noi, Arca dell'alleanza prega per noi, Porta del cielo prega per noi, Porta del cielo prega per noi, Stella del mattino prega per noi, Salute degli infermi prega per noi, Rifugio dei peccatori prega per noi, Conforto dei migranti prega per noi, Consolatrice degli afflitti prega per noi, Aiuto dei cristiani prega per noi, Regina degli angeli prega per noi, Regina dei padri archi prega per noi, Regina dei profeti prega per noi, Regina degli apostoli prega per noi, Regina dei martini prega per noi, Regina dei beni cristiani prega per noi, Regina delle vergini prega per noi, Regina di tutti i santi prega per noi, Regina concepita senza peccato originale prega per noi, Regina assunta in cielo prega per noi, Regina del santo rosario prega per noi, Regina della famiglia prega per noi, Regina della pace prega per noi, Regina del cielo e della terra prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ami pietà di voi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita morte e risurrezione. A noi che con il santo rosario abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contencono e di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie. 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 Grazie.